Grazie per essere stati con noi e una buona notte Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna Bene, eccoci alle previsioni del tempo Una giornata con velature sulle Alpi alternate a schiarite Con nubi basse e qualche isolata nebbia al mattino sulla pianura padana Schiarite verso la metà del giorno Scendiamo sulle regioni centrali dove invece troviamo un rischio di pioggia Un po' più alto sulla Toscana ma solo nella prima parte della giornata Nubi alternate a schiarite e via via sempre più ampie sul resto del centro Regioni meridionali con nubi sparse un po' più diffuse sia sul basso Adriatico che sul basso Tirreno Più isolate invece in area ionica Un po' di maestrale tra Salento e Calabria Ionica Questa è la previsione per le isole Rischio di pioggia un po' più alto per la Sardegna occidentale Nubi alternate a schiarite anche in questo caso via via più ampie invece per la Sicilia Le temperature non subiranno variazioni importanti Registreremo però una tendenza alla diminuzione dei valori minimi solo limitati però alle zone alpine Bene, questo è tutto, vi auguro buona giornata Forse la gente in paese ha ragione, sono completamente pazza Non sei pazza, è l'amore che è folla e pericoloso Le vele scarlatte al cinema Ho trovato una guida che ti porterà a destinazione L'isola è molto diversa dalla Danimarca Il clima, l'inverno, è tutto molto diverso Il clima, l'inverno, è un po' più forte Il clima, l'inverno, è un po' più forte Prendi l'inverno, l'inverno e il fogna Noi di Lidl lo sappiamo è la convenienza a farvi entrare ma è la qualità a questi prezzi che vi fa tornare anzi, a questi sottoprezzi pensati per farti anche esagerare ogni tanto per le tue feste da lunedì a domenica polpa di pomodoro mutti a 1,45 euro e penne zitti rigate di vella a 1,19 euro una spesa grande in tutto ma non nei prezzi ci ho pensato Lidl, anch'io capelli favolosi come d'incanto un sogno? no, è Biopoint maschere con formule esclusive per capelli lucenti e setosi il trattamento dalla performance migliore per l'87% delle donne non è un sogno è Biopoint San Crispino ama l'ambiente anche col tappo che non si stacca dal bric e non si disperde San Crispino il nostro vino i disturbi gastrici non lasciano bei ricordi ma noi possiamo aiutarti a farli passare Biochetasi Granulato Efervescente agisce sui disturbi gastrici ed è per tutta la famiglia e per un aiuto mirato per problemi di acidità ovunque tu sia c'è Biochetasi Acidità e Digestione mmmm com'è cremoso sa di panna è burro soresina latte panna solo panna di latte fresca fresca e tu ci credi? vediamo quanto ci metto vai vai tagliati qua ci crede adesso? si e la panna? allora questo burro usa no o no solo panna fresca? direi burro soresina latte panna c'è più bontà nella verità grazie a tutti cucinare come all'aria aperta con i sistemi di aspirazione per piano cottura e il forno flessibile Bora qualcuno ha detto just eat green dog qualcuno ha detto just eat benvenuti nel mondo dei produttori italiani Almaverde Bio Almaverde Bio volersi bene Torino e New York due grandi città da scoprire New York con le sue infinite vicissitudini le sue molte storie spesso segrete che ancora custodisce tre serate evento con la narrazione di Corrado Augas quando si parla di Torino non bisogna mai dimenticare che qui è nata la nostra avventura degli italiani città segrete la nuova edizione sabato alle 21 e 45 Rai 3 sono partiti diversi metri indietro e hanno affrontato gli ostacoli che la vita gli presentava raggiungendo gli obiettivi che sognavano la cosa più importante in assoluto sognare e divertirsi non smettete mai di divertirvi quattro storie di chi ha trasformato i suoi punti deboli in punti di forza con Stefano Buttafuoco il cacciatore di sogni la nuova stagione da venerdì 13 gennaio in seconda serata Rai 3 oggi il contenuto è sopravvalutato ciò che conta è avere una splendida cornice ma non questa Splendida cornice con Geppi Cucciari da giovedì 12 gennaio alle 21 e 25 Rai 3 Rai 3 Rai 3 Grazie a tutti.